1977, Erasure Head, la mente che cancella, è questo il titolo del primo lungometraggio di David Lynch scritto, diretto, montato da David Lynch questo film grottesco, questo sperimentale, questo body horror questo completo pezzo di follia che è venuto fuori da quella mente di quelle pazzoide meravigliose che ancora non amo, ma spero che presto amerò, che è David Lynch è stato un trip, un trip infinito, infinito no, anzi perché in realtà è un film anche abbastanza corticino se vogliamo, con poco più di 80 minuti si prende e si vede tutto quanto ed è stato comunque un'esperienza notevole questo film, come ho detto, è il primo lungometraggio di David Lynch è stato prodotto nell'arco di 5-6 anni, fra una cosa e l'altra perché c'erano stati dei problemi finanziari all'epoca per Lynch che addirittura si è perso la casa l'ha dovuta impiegare fondamentalmente economicamente per le spese per sobbaccarsi in parte le spese di questo film per la produzione di questo film addirittura è arrivato a dormirci sul set di questo film, il buon David e tanto credeva nel progetto e alla fine, dopo 6 anni, forse 5, non mi ricordo bene è riuscito a portare la casa e ha creato questo film che è diventato un cult uno degli estimatori maggiori di questo film fu Stanley Kubrick che sembra lo proiettasse continuamente durante la lavorazione di Shining per trasmettere inquietudine agli attori e ci credo, e ci credo perché è un film assolutamente inquietante è assolutamente inquietante la storia di Henry questo... questo nessuno questo ragazzo uomo questo... questo inetto fondamentalmente questo Henry Spencer interpretato da Jack Nance Jack Nance che in realtà avrà un sudadizio con Lynch Lynch aveva la caratteristica di creare sudadizi con gli attori di riusarli, riutilizzarli, riciclarli forse di tutto un po' fondamentalmente Jack Nance per me sarà sempre ricordato sebbene non in maniera così emotivamente importante ma comunque in maniera affettuosa con... per la sua performance in Twin Peaks egli infatti interpretava il personaggio di Pete il... diciamo... ma... diciamo il... il... l'elemento più... se vogliamo... inutile forse nelle dinamiche complottistiche di Twin Peaks perché di fatto lui fondamentalmente uno dei pochi a non avere alcun segreto in quel mondo misterioso che è quello di Twin Peaks ma tutti attorno a lui dalla sorella al... al... al cognato al fratello al... anche... anche la moglie tutti quanti attorno a lui hanno dei segreti lui è un po' il... lo zio buono che non gli si può volergli male fondamentalmente ma che... in qualche modo viene investito dai complotti degli altri molto soppoperosa è stata la... la storia di Pete in realtà nella... nella storia di... nella storia nell'immaginario di Twin Peaks e... eh... alla fine non abbiamo in realtà mai visto la sua conclusione nel momento che il suo personaggio per ovvi motivi di vita reale eh... non è stato proseguito in... nella prosecuzione di Twin Peaks nel... a terza stagione se vogliamo la serie evento ma finora ho parlato ancora poco di questo film torniamo a questo film fondamentalmente in questo... in questo... lungometraggio in bianco e nero un bianco e nero assolutamente... granuloso e che... riesce con... questa sua assenza totale di colori a trasmettere ancora più inquietudine oltre che per quello che viene mostrato e per come viene mostrato eh... in questo film abbiamo in una città buia teatrale e questo tipografo in feri Henry che viene contattato fondamentalmente dalla sua ex ragazza viene invitato a cena e a questa cena lui scopre che eh... la sua la sua ragazza fondamentalmente Mary era rimasta incinta era rimasta incinta e allora è nato un bambino un bambino che porterà la coppia a sposarsi e da lì comincerà il degenero ancora più degenero in questo film è un film profondamente inquietante questo qua che forse mostra le ansie le paure diciamo del regista nei confronti della paternità e rende questo disagio interno questa titubanza verso questa prospettiva personificata nella creatura che è il figlio un essere evidentemente mostruoso un po' subumano se vogliamo che devasta la routine consolidata e di del personaggio di Henry e che poi distruggerà di fatto il la la mente della prima della madre e poi anche del padre fondamentalmente e quindi il loro matrimonio una volta che la coppia avrà fatto il famoso matrimonio riparatore in realtà la storia è estremamente breve di questo film c'è davvero pochissimo da dire di questo film perché una volta tolto il confronto con i genitori così disturbanti ed estraneanti il padre che ha tirato su dei tubi per tutta la città e che si è fatto un qualche cosa di imprecisato alle ginocchia la madre che evidentemente sfrutta in qualche modo la 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 nonna e il la figlia assolutamente soggiogata vittima delle vittima delle angherie materne e c'è la fase di distruzione del matrimonio del rapporto a causa del bambino questo bambino che piange sempre che devassa la mente di coloro che sentono il suo pianto isterico e porta che cosa porta a una disperata necessità di evadere una disperata necessità di evadere che porterà il personaggio di Henry a intrattenersi per una notte con la bella di rimpettaia del suo stesso pianerottolo ma che il giorno dopo lei riuscirà tranquillamente a dimenticare il personaggio di Henry anche per sfuggire all'incubo che è di fatto questo strillo incessante e devastante del neonato alla fine di nuovo solo di nuovo abbandonato nella sua mediocrità e nel peso della genitorialità di questo figlio orripilante che lo di nuovo perseguita con il suo grido con il suo pianto che quasi sembra una risata beffarda ad un certo punto Henry sfogherà tutta la sua frustrazione sull'inerme e mostruoso figliolo terminerà così fondamentalmente il film con un alternarsi di sequenze reali oniriche ma cosa come si fa a definire reale e cosa come si fa a definire onirico che cosa in questo film che è un continuo alternarsi di suggestioni visive metafore se ho più o meno intercettato realmente la storia perché in realtà con un film del genere non si è mai troppo sicuri di aver capito veramente quello che si è visto e queste follie queste follie visive che hanno caratterizzato questo film che hanno caratterizzato altri lavori di Lynch che ho più o meno visto che mi sono ripromesso di provare a rivedere in maniera un pochettino più consapevole e che c'è poco da dire non non può questo film che essere un cult un cult che sono contento di aver recuperato in maniera un po' decente fondamentalmente e non posso che consigliarlo perché per certi versi è uno dei migliori grotteschi horror che io abbia mai visto è un film assolutamente surreale è un film inquietante ed è è un cavolo di capolavoro c'è poco da fare di capolavoro